La protesta consigliera, se non si è fatta, se non si è riuscita a dire il cittadino. Allora, volevo, volevo evitare, poter dire, a alcune considerazioni fatte rispetto alla positiva umilità della comunità storica e alla gestione dei obiettivi, alla valutazione che si fa per i dettori, io rispettando che ho detto che al di là delle relazioni intelligenti non c'è da parte del controllo di gestione le relazioni che dovrebbero possiedere a noi consiglieri comunali di verificare se esistere come casolica una gestione economica e caccia delle ricette e così ancora è un dato, nel momento di spiegare, che oggi è regolarmente possibile, abbiamo i fatti, alla fine di soluzione sono croni, tutte e preoccupate, esclusivamente con i dei, i personali, i famigli e i fatti e non comunicati alle competenze, la responsabilità è ancora più grave se andiamo a verificare i criteri e i criteri e i criteri che sono salvati, non rispondente a nessun criterio che non è fatto e soprattutto noi nel decoramento, prima di conseguere a te lo comune, il consiglio di provvedere di esempio dei membri di ditto alla Commissione di Cazzo Alenzo, al Presidente del Comunicato di Cazzo Alenzo per dettagliare, per aiutare, da questi comuni, come avevano persone che avevano un titolo di gestione che avevano il cuore, non parlavamo voi, non innanzi che non avevano dato del minore armato quindi io ho detto che il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale e le Comunicato di Cazzo Alenzo, perché sono potenti a sé che ha rimangono le ragioni in effettuare una verifica chiara, precisa e netta. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, io nel senso di Cazzo Alenzo, ho detto che un Consiglio Comunale già è presente, è evitato il delico del bilancio di Cazzo Alenzo e del Comunicato di Cazzo Alenzo e tra composizioni, tra creazioni di quello che non c'è la cazzo di Cazzo Alenzo e ho chiamato l'articolositivo, è una metodo di imputabilità, è definita in maniera tercettuale rispetto al cumulo dei decidi dati che noi abbiamo, quindi è un tasso normativo ma nonostante questo, noi anche con le Cazzo Alenzo avevamo un svolto di valutazione che è in vento di un uomo che c'è in un livello, quindi credo che via abbastanza sufficiente per umidire, proteggiare, in quanto riguarda il discorso di un ospedale da qui a tre dici. Consiglio come degno di buona intenzione della proposta ma siccome il Partito Democratico è avanzato solo di fare l'opposizione, se basta, noi ci stiamo vedendo, inserete in grado di finanziare la proposta, perché non è sufficiente e secondo me non è nemmeno giusto andare in condizione per decidere e per evitare già Caso Alenzo e dunque, io penso che un normale cittadino che vive la città, benigni, benigni di questo, basta poi anche prendere la presenza di un'opera intenzione di città, da molti cittadini, cittadini, per un'opera intenzione di città, e non c'è nemmeno necessità di unici condizioni per evitare che la situazione del periodo di un'opera intenzione è una situazione di un'opera intenzione di città, quindi lo spirito del legamento è questo qua, è un reglito di consigliere comunali che dichiarano il bene della città di non dichiararlo ma di attraverlo effettivamente in caso. Grazie Grazie Grazie